allora ciao ragazzi allora chi è questo signore qua? chi è? ovviamente questo lo faccio per mettere sul mio canto, poi tu mi dirai chi sei tu? chi è questo signore qua? allora dietro a questi pick up che voi vedete nei video e vedrete anche i prossimi video c'è questo signore Xoanon pick up quindi mi darai un'altra chitarra, che vedete tutte le magie per farli, il retroscena, il lavoratorietto, gli strumenti che mi passano per le mani e poi lui li mette io come dico facciamo vibrare questi pick up quindi ragazzi c'è artigianato puro, stile italiano, non è a caso il suono che che si siano, è perché io sono bravo, è proprio perché questi suonano e stimolano la creatività del ragazzo e stimolano la creatività del ragazzo, del ex ragazzo quindi ragazzi seguite Xoanon pick up, seguite Alfredo, ciao ciao ciao